Il battle pass della stagione 3 per Black Ops Cold War e Warzone è qui. Vesti i panni del nuovo operatore, Raid. È ora di fare dei seri danni. Ex agente dell'intelligence norvegese, Raid è un'esperta di infiltrazione e sabotaggio. Non sapranno cosa li ha colpiti. Incuti timore ai nemici con le nuovissime armi. La metraglietta PPSH. PPSH e il precisissimo fucile Swiss K-31. Personalizza l'arsenale con i progetti. Guadagna skin operatore, mimetica reattiva e elite, porta fortuna, adesivi e altro. Lancia che sblocca i 100 livelli di contenuti, riguadagnando fino a 1300 punti Call of Duty. Infiltra che porta al termine la missione. Con il Battle Pass della stagione 3 per Call of Duty, Black Ops Cold War e Warzone.